spettacolare video registrato nel golfo della california quello che a prima vista sembra una enorme chiazza di petrolio che si espande è invece uno spettacolo mozzafiato offerto dalla natura milioni di acciuga invadono questo specchio d'acqua tra la curiosità dei bagnanti che non esitano a immergersi con tanto di maschera e pinne per ammirare sotto la superficie dell'acqua questa enorme massa di pesci che si muove con movimenti ritmici quasi ipnotici una strategia questa che utilizzano i branchi per sfuggire ai predatori affamati che si aggirano intorno a questa moltitudine di acciughe